Concurcata e definitivamente spunta dall'umano, dalle nefandezze. Nella sala eventi di Palazzo Viceconte a Matera, per il Festival Magna Grecia Lucana, è stato presentato al pubblico l'evento Franco Maldonato racconta José Ortega, i segadores, il decalogo per la democrazia spagnola, con la partecipazione di Franco Maldonato e Uderico Pesce. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Roma riteneva che la bellezza potesse essere pretermissa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.